Il primo dei relatori che abbiamo nel pomeriggio, dopo anche l'intensa mattinata, è il professor Mauro Vanaken, antropologo, insegna appunto al Dipartimento presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, si occupa di dinamiche culturali tra rifugiati e migranti e di relazioni culturali tra società e ambienti in contesti di cambiamento, in particolare nei mondi sociali attorno all'acqua. La sua ultima pubblicazione è La diversità delle acque, antropologia di un bene molto comune. Il titolo del suo contributo è Le diversità e le ecologie culturali. Lascio la parola al professore che dà il via ai lavori del pomeriggio. Grazie. Buongiorno. Io vorrei con qualche esempio raccontarvi un po' cosa faccio in realtà prendendo spunto da cose su cui lavoro, quindi contesti culturali in cui lavoro e questioni attorno a cui lavoro hanno a che fare molto con le relazioni tra altre culture, compresa la nostra, le culture e altre idee di ambiente e di relazionarsi all'ambiente. Questo non solo in termini di rappresentazioni, miti, idee, ma proprio i campi, le agricolture come luoghi di sapere, come modalità di pensare il mondo e anche l'uomo. Questo attraverso le pratiche, per esempio, griche, l'allevamento, la pesca e via dicendo. E c'è un rimosso, partiamo da questo, tendenzialmente, quando parliamo di culture, anche a casa nostra degli antropologi, nelle scienze umane, nelle scienze sociali, c'è un grasso rimosso, c'è qualcosa di altamente nascosto. Ci sono diversità di culture, e siamo qui a parlare di questo, e di relazioni, soprattutto tra culture, ma c'è sempre una natura, che diamo per scontata, come una. C'è un pensiero unico, e soprattutto c'è un grosso rimosso, che parte però della nostra piccola storia specifica che si è fatta egemonica anche, e che però ha una grossa influenza anche nei saperi, nei saperi esperti, nelle scienze umanistiche e sociali, per cui l'ambiente in qualche modo se ne occupano gli altri, noi ci siamo distaccati, ed è quella cosa là, là fuori, in cui eventualmente possiamo proteggerla o eventualmente facciamo, no? Quell'impatto di sfruttamento, di secularizzazione che ha avuto all'interno della storia del capitalismo. Non di questo voglio parlare. Partiamo da un'immagine. Vorrei parlare, insomma, di idee di culture in relazione alle idee di nature, perché anche queste, le culture, le hanno sviluppate molto diverse e molto creativamente per, all'interno della condizione umana, stare a questo mondo, costruire paesaggi, disegnarsi montagne o ambienti aridi. Si possono pensare alle culture come piccoli recinti, ne abbiamo parlato, ne parleranno in tutte le tre sessioni, penso. La cultura può essere un grosso rischio, le forme di razzismo sono spesso sempre più culturali e culturaliste. Possiamo pensare anche alla natura, come in questo disegno, come un piccolo recinto, in cui uno ci si accorge del bosco grande, buio, che sta attorno, in cui ci isoliamo. E questa è molto la nostra idea di natura, su cui si basano le nostre idee di diversità culturali. Devo prendere qualche esempio di quello che è un contesto altamente interculturale, con tutti gli stereotipi, le profonde incomprensioni, gli scontri, che sono quelli dei progetti di sviluppo, ecco, quelli dove un antropologo anche lavora, che sono contesti di incontro culturale. Lo sviluppo attorno a un albicocco non è neutro, è un'idea nuova che si porta attorno all'uomo, attorno alla cosa deve fare la pianta, attorno al frutto, attorno alla terra, attorno alla sostenibilità. Insomma, è una relazione culturale e ambientale assieme. I contesti di progetti di sviluppo sono luoghi di profondo interculturali, di una compresenza di diversissimi linguaggi, percezioni culturali, progetti politici che si incontrano però in piccoli luoghi. E da qui che parto. Lo sviluppo, quindi i progetti di sviluppo, a casa d'altra e a casa nostra, sempre più, sono profondi eventi socioculturali, dove attorno all'acqua, a un canale, a un campo agricolo, a quel impianto di patate, si attivano nella pratica, in una lotta nei campi molto spesso, idee diverse di cosa sia quella patata, quell'acqua, non opposte per forza, ma mondi sociali diversi, per esempio attorno all'acqua. Attorno all'acqua non unicamente, come dire, nelle rappresentazioni culturali, nella poesia, nei miti, no, no, nelle pratiche agricole, nei sistemi produttivi, nei sistemi di cooperazione al lavoro, quindi su cose anche dure e pure. Lo sviluppo, però, tendenzialmente, e così vale anche come modernità, un altro termine, lo pensiamo come qualcosa che va altrove, si spalma, ma lo pensiamo come culturale. Il modo in cui noi pensiamo all'acqua non lo pensiamo come culturale, anzi si è imposto molto spesso in altri contesti e su altre idee, sistemi, istituzioni, saperi, per esempio attorno all'acqua, per esempio l'acqua per fare il cibo, l'irrigazione. Sono contesti interculturali profondamente intensi, tanto quanto la scuola, l'ospedale oggi, il campo dei rifugiati e tanti altri che molti di voi come operatori, insegnanti o studiosi osserviamo. Sono i luoghi dove si costruisce, si costruiscono come processo culture, ma al suo tempo dove si scontrano, dove si attivano incredibili stereotipi. Ciò di cui vorrei parlare sono modalità diverse in cui, certo, diversità culturale, ma nei progetti di sviluppo si incontrano nei campi in modalità diverse di socializzare la natura, di altre culture, tanto più nei contesti del sud del mondo. Modalità che per lo più nella storia, dalla storia coloniale e spesso purtroppo tanto più nei contesti di sviluppo, sono state rese invisibili. Sapere che sono relegati come qualcosa da trascendere in nome della modernizzazione dell'acqua, della modernizzazione agricola, dell'agricoltura intensiva o della frutticoltura per il mercato, via dicendo, sono settori di capitoli dell'aiuto allo sviluppo. Cioè, quelle diversità culturali che sono allo stesso tempo altre forme di interazione con nature, altre idee della natura locale, delle popolazioni, spesso sono relegate da trascendere o folclorizzate come qualcosa di bello, ma non di utile produttivo a questo mondo. C'è da dire che in questi contesti interculturali molto spesso chi è più spaesato sono proprio gli operatori dello sviluppo, che arrivano in contesti multilingue, con 4 o 5 lingue locali, fatte di migranti, di gente abituata a sapersi muovere o a doversi muovere, rifugiati, e in contesti molto poco attrezzati a pensare che quello che sta avvenendo non è un processo tecnico o di import-export di tecniche o di spalmare una nuova cultura dell'acqua in una zona semi-arida in Medio Oriente, ma sono processi sociali che incontrano società altri punti di vista, altrettanto contraddittori, non da idealizzare, non più vicini alla natura, non per forza più ecologisti, però altri, altri. E questi regolarmente possono essere naturalizzati. Contesti come tanti altri di cui stiamo parlando questa giornata, dove il rischio principale è il modello di cultura che stiamo utilizzando molto spesso. Nel contesto di sviluppo il culturalismo, reificare la cultura, vederla come una cosa e non come una relazione, vederla come una natura, qualcosa di ossificato, la tradizione degli altri, il tribalismo in Medio Oriente, è spesso l'ostacolo principale per avviare forme di riconoscimento e di comunicazione proprio attorno a progetti, poi molto spesso, cioè proprio all'idea di cambiare qualcosa assieme, attorno a povertà, attorno a scarsità delle risorse e via dicendo. Spesso è la cultura degli altri che diventa il problema, o in genere nel ciclo del progetto è proprio ciò che succede, gli altri in quanto la loro tradizione, quei loro saperi, in cui la loro cultura è un pacchetto chiuso, è una piccola palla chiusa, abbiamo tante metaforate verso cui pensiamo a queste cose, che sono la modalità più stereotipa per capire in realtà qualcosa di molto mobile, la cultura, un concetto messo in crisi e anche all'interno della casa nostra, dell'antropologia, la cultura non è una cosa semplicemente, come cosa non mi aiuta a fare niente, a capire questo mondo né a capire il mondo in altri contesti culturali. Ma che modello di cultura? Mi soffriamo brevemente per parlare poi di modelli di natura. Innanzitutto ogni cultura è multiculturale, non è che lo deve diventare, lo è, al massimo può dimenticarlo, può rigidirsi, può chiudersi, è selezione, è obbligo, ogni cultura è incompleta, è sempre incompleta, è sempre un processo, per quello dico, non è mai una cosa. E da qui il grossissimo rischio corrente che c'è di riprodurre forme di esclusione che oggi sono sempre più, tra virgolette, culturali, io li definisco culturaliste, non io, imparando da altri maestri. Dove la comunicazione interculturale può diventare una grandissima incomprensione e stereotipizzazione interculturale. Nei progetti di sviluppo sono gli esempi classici, mondi paralleli che non si parlano. Anzi, noi parliamo di costruzione dell'ignoranza quando siamo nei progetti per capire quello che succede. Si costruiscono un ignorarsi reciproco tra distinzioni culturali attorno, non ai massimi sistemi del mondo, ai massimi sistemi di una patata, di un albero da frutta, di un campo dove fare agricoltura e come farne per chi. Si può comunicare a senso unico, attraverso un'idea retorica, reificata di cultura. Una citazione a caso, dove ci rifacciamo a modelli come il mosaico, quanto spesso torna, dove le culture sono dei contenuti che al massimo stanno uno vicino all'altro, ma chiusi, impermeabili. O un modello di mondo simile ad una palla da biliardo in cui le entità si respingono reciprocamente come altrettante palle di biliardo, rotonde e dure. Non è questione morale di credeci o meno che non va bene questo modello, ma semplicemente non è, non ci aiuta la compressione della realtà e delle culture come sempre relazioni verso, come sempre sincretismi di partenza e di avvio. Altre sono le politiche. della cultura, sono le politiche dell'identità e spesso anche della paura. Ogni cultura è incompleta e il rischio di modelli simili, il rischio di reificare, cioè di rendere statico l'idea di cultura è appunto quello di essere poi indifferenti alla diversità culturale. È quello di rimanere etnocentrici. Nelle pratiche quotidiane, dal nostro vicino di casa ai bambini che sono in una classe dei nostri bambini. È quello di non vederla come relazione, come apertura, come rischio. perché se modelli di cultura sono utili per orientarsi e per capire anche un contesto di, non so, vediamo fra poco, di produzione intensiva degli albicocchi verso cui alcune popolazioni si rifiutano, si oppongono, è perché le culture sono corpi simbolici, sono corpi simbolici. La diversità non è mai una cosa indipendente da come è usata, comunicata, agita, da cosa se ne fa, da cosa ce ne facciamo nella vita. Non è mai indipendente dalle relazioni. I popoli non portano con sé la propria cultura in una valigia. Certo, simbolicamente, ma le culture non sono chiuse in un contenitore. Sono metafore che poco ci aiutano. Anzi, è tanto più oggi. Oggi noi lo diciamo nei nostri contesti di globalizzazione, modernità, interrelazione, deterritorializzazione, in cui parliamo di società multiculturale, ma i contesti di sviluppo da sempre sono contesti di incredibile traffico culturale. Ecco questa è una bella metafora, perché è quella che si vede quotidianamente in qualsiasi campo di rifugiati o contesto di sviluppo, non nella società tradizionale locale. Si vedono operatori molto spaesati, monolingui, che incontrano popolazioni plurilingue cosmopolite, seppur povere, o agricoltori, o pastori nomadi. Altre forme di cosmopolitismo dal basso. Salto un attimo. Bisogna, sui modelli di cultura, non naturalizzare la cultura. Spesso per comodità, per stereotipia, per trovare una risposta, per spiegare cose che non capiamo, che ci danno fastidio, è la prima cosa che facciamo. Quello è solo un riferimento a chi può interessare, ma nei lavori, per esempio, che abbiamo fatto, che l'antropologia ha fatto, e non solo l'antropologia, nei contesti di aiuto umanitario, è incredibile vedere come la stessa idea, tutto del nostro modello di cultura dell'ultimo secolo, per cui una cultura è radicata come un albero in un luogo, che è stata chiamata metafisica sedentaria. Cioè, è una nostra metafisica. Per cui, se si perde quel luogo, si perde la cultura. Scusa. Può sembrare un discorso teorico, e lo è anche in termini di decostruzione, ma nei contesti di aiuto ai rifugiati, nei contesti poi anche a Milano, spesso l'aiuto è il primo mezzo per disconoscere gli altri, perché si fa finta che gli altri abbiano perso tutto e devono essere adducati alla nostra modernità. Si può fare dell'aiuto una leva di potere per addomesticare la nostra cultura, nozione reificata, a essere moderni. Queste sono dinamiche molto forti e molto conflittuali nei contesti di aiuto umanitario nei campi di rifugiati, tanto più grandi e permanenti diventano. Grande storia fallimentare che pervade ancora. Gli altri diventano vittime astratte, ma perché hanno perso cultura. Perché chi si muove di per sé stesso è patologico, è come se fosse aculturale. Anzi, chi si muove dopo torture, dopo viaggi, dopo esperienze, dopo curiosità, porta con sé sistemi culturali. In profondo caramento e anche in crisi. Ma con possibilità e competenze di autoaiuto, di solidarietà, di reti transnazionali, di idee di uomini, di donne, di idee di famiglie, di idee di maternità, di paternità, che sono cruciali, ma sono diverse. Questo è un elemento che abbiamo trovato molto forte, per esempio, nei contesti di aiuto a Milano. Per cui ci accorgiamo che molto spesso l'assistenza a Milano richiede di asilo ai rifugiati diventava una nuova fuga, scappare dall'assistenza quando si poteva essere assistiti, perché si sentiva infantilizzati, cioè dove l'aiuto diventa una pedagogia, certo interculturale, ma dove l'altro non c'è culturalmente, dove i centri di assistenza per donne si rivendicano grandi mamme, per mamme che non sanno esserlo, nonostante abbiano le natalità più alte del mondo, per pratiche di essere donne all'interno dei contesti familiari che ci sentiamo avverse, ma sulla base di stereotipie. Ogni cultura è incompleta, porta problemi e contraddizioni, ma i problemi non sono le culture, sono le dinamiche, le relazioni. È un esempio piccolo, ma torniamo invece a ciò di cui vorrei parlare. Allora noi pensiamo a tante culture e rischiamo di pensarle spesso in termini di quelle pale da biliardo che si scontano, in realtà, in termini di traffico di sistemi simbolici, contigui, ma lo pensiamo sulla base di una natura. E questo, lavorando nei contesti agricoli, è spesso qualcosa che non regge. Noi abbiamo un multiculturalismo che si basa su un mononaturalismo, ma qualsiasi cultura ha altre relazioni culturali, forme di socializzazione dell'ambiente, vengono chiamate. Nel pensare un campo agricolo, nel pensare un pozzo, nel pensare, ma nel lavorare, nel fare cibo, nel pregare come nell'alimentare. C'è un'incredibile creatività e diversità di altre ecologie culturali, metafora narga, cioè di altre relazioni tra quella che è la cultura, un dato popolo, in riferimento a quell'ambiente. Che non vuol dire essere fusi, confusi con l'ambiente, né vuol dire che i primitivi selvaggi sono più vicini alla natura. Perché questo deriva da nostre concezioni, storicamente anche contemporanee. Ne parliamo in un contesto dove c'è una generale indifferenza ambientale, cioè abbiamo una credenza mononaturale. Noi crediamo nella natura, come qualcosa di opposto alla cultura, come qualcosa che è oggettivo, è un oggetto, come qualcosa che non interagisce con la nostra storia. Ed è questo di cui vorrei un attimino fare qualche esempio. Nel nord del Pakistan, per esempio, nei primi lavori che ho fatto, gli ali albicocchi che sono base, sono il maiale, corrispettivo del maiale oltrepadano dell'ultimo secolo, ormai anche lui, di cui si usa tutto. L'albicocco si usa tutto, ma è un medium culturale, racconta tante cose, ma quando si taglia e soprattutto non si vuole potare l'albicocco, e questo fa imbestellire gli agronomi nei progetti intensivi, è perché si ritiene che quell'albero sia, l'uomo sia coautore dell'albero, cioè si ritiene che l'albero è un autore, cioè è anche lui soggetto, non umano, non si va fuori a bere una birra con l'albero. Si sa che lui agisce, che ha caratteri, si sa che il lavoro produttivo è anche una relazione, sì sociale, e così fanno in modalità molto diverse e complesse tante altre culture. Il paradosso è che lo facciamo anche noi a casa nostra, ma non ci crediamo. Uno dei grossi conflitti era l'utilizzo promiscuo di fruttetti insieme a articoltura intensiva. Gli agronomi dicevano, ma così togliete forza la terra per l'albero, loro dicevano, no aspetta, è l'albero, il problema è che non lo dicevano, lo praticavano, è l'albero che dà forza la terra qui. E questo effettivamente aveva molto senso, poteva avere anche le sue contraddizioni, ma aveva anche agronomicamente, diremmo noi, molto senso. Un altro piccolo esempio, ma proprio la nostra idea di deserto, su cui costruiamo progetti politici, su cui da un secolo ormai costruiamo un'idea di intervento in Medio Oriente, Nord Africa, a partire dal colonialismo. Questa è la Valle del Giordano, bruttissima foto in bianco e nero, ma che è una foto prometeica degli anni 60, in cui sì, la cooperazione sottotitense mostrava il proprio aiuto per portare un nuovo canale. Per esempio, l'idea nostra di deserta è proprio la classica idea di un oggetto là fuori, staccato dall'uomo, unificato nel vuoto di quell'ambiente, deserto. Diversissimo, giocato su una dicotomia, scarsità, abbondanza, tutta, tutta occidentale. In questo contesto le zone aride e semiaride sono dei pieni, avariabili. Hanno le stagioni, hanno fiori, hanno culture, hanno pozzi, hanno captazioni, hanno tempi, hanno foraggio, sono dei pieni. Ecco, possiamo vedere, a partire da questo potete solo immaginare cosa può sapere dire, non ne possiamo parlare né qui, cosa sia l'idea di portare un progetto di modernizzazione idrica in mezzo al deserto per fare uliveti o bananeti come è successo, in un contesto di altra relazione ambientale. In un contesto dove i saperi di interazione locale che non sono mai congelati nel tempo hanno una lunga intimità ai luoghi e hanno saperi complessi, tanto più perché giocati sull'esperienza produttiva di questi ambienti, non vuoti ma pieni. Ora si stanno desertificando, avendoli trattati come, avendo portato idee completamente, essi prometteiche, della capacità dell'uomo di portare, di far fiorire il deserto. È stato un grosso mito che però ha agito in modo molto forte. Un altro esempio, ho lavorato molto sull'acqua, io ma come tante altre persone oggi, perché l'acqua è una questione cruciale, interculturale, tra culture, tanto più tra potenziali conflitti. Questo è un esempio proprio lampo di un subac balinese. Subac sono dei sistemi rigui, ma sono delle costruzioni artificiali di produzione intensiva di riso con due o tre raccolti all'anno, a Bali da secoli, con profondi cambiamenti, ma da secoli, prima ancora della costruzione del Stato nazionale. Ma noi possiamo vedere, ammirare, questi specchi d'acqua e queste ingegnerie idrauliche, ma non capire, ed è quello che è successo, non capire il sistema culturale, le idee di acqua, il perché ci sono i templi d'acqua, della divinità dell'acqua e perché quei templi d'acqua non sono solo luoghi di preghiera, ma sono luoghi di organizzazione tecnica di questi sistemi. Altre modalità di relazioni con l'ambiente, non solo credenze, ma pratiche che scolpiscono paesaggi e molto spesso tutto ciò non esce. Ma perché non esce? Questo salto, perché Salens ci racconta, un antropologo, ma non lo raccontano solo gli antropologi, niente, mi sono perso qui. Il modo in cui l'Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa al mondo, cioè in realtà è una banalità questa. In molte regioni del pianeta gli umani e non umani non si sviluppano in mondi incommensurabili secondo principi distinti. Qual è il principio distinto? Il pensare che c'è una cultura e la diversità culturale perché c'è una natura completamente altra distinta là fuori da cui noi non siamo inseriti, che al massimo la guardiamo da fuori, la sfruttiamo, o al massimo la proteggiamo, ma non ci compete, non ci siamo dentro. Questa credenza della dicotomia natura e cultura è la cosa meno condivisa al mondo nell'esperienza umana di produzione culturale in relazione all'ambiente. Gli altri non sono fusi alla natura, hanno tantissime altre modalità, spesso anche devastanti verso l'ambiente, ma socializzano parti di quello che noi chiamiamo qualcosa che è fuori dal sistema sociale e culturale. Sono relazioni sociali, riconoscono una agency, riconoscono un'azione nella storia, nel locale, nei rapporti tra non umani, animali o piante che siano. O descolar, il cui stesso descolar, giusto un riferimento di quelli italiani, l'ecologia degli altri, tutte le società mettono l'esistenza di piccoli pezzi di natura, cioè di cose con cui noi non interagiamo in termini sociali, con cui non pensiamo in termini parentali, come tante culture fanno, per esempio in Amazzonia, piante, animali come parenti del sistema clanico. Ma solo l'occidente moderno conferisce all'opposizione tra natura e società il ruolo affondante della propria cosmologia. E certo, noi abbiamo una cosmologia che non ce la raccontiamo, noi crediamo nella natura, la naturalizziamo. Con questo non stiamo dicendo che non ci siano le pietre, è che crediamo che sia fuori dal società e che sia fuori dalla cultura. Questo è qualcosa di abbastanza recente. È che i modelli di natura, ci raccontano gli schiolati, cioè i modi diversi in cui le altre società pensano nel proprio rapporto, che vuol dire lavoro, che vuol dire agricoltura, che vuol dire credenze, che vuol dire pregare alla natura. Sono anche forme di identificazione, cioè sono modi in cui si compongono l'identità sociale stessa. Di pensare cosa sia l'uomo in relazione a altri non umani, ma sono anche etos, sono sistemi valoriali, centrali. Quando andiamo a toccare sistemi, per esempio i rigui in altri contesti, tocchiamo anche sistemi morali. Non stiamo facendo un processo tecnico, se non teniamo conto di questo. E sono interconnessi a cosmologie, cioè a mondi di senso, idee sulle origini e idee sull'uomo molto più vaste. Ma anche la nostra idea della natura è tale. Insomma, la nostra idea della natura non è universale, è particolare, è anch'essa storica. Quello che è nuovo è la profonda dicotomia in cui la natura è qualcosa di fuori laggiù. Alcuni aspetti di questa nostra cosmologia. Beh, la natura è la prima alterità, è là fuori, è qualcosa che non ci compete socialmente e culturalmente. Infatti non ci pensiamo in una relazione, eccetto il cagnolino, il gatto, qualcuno il cavallo, con quella natura là fuori. Non è relazione sociale, è relazione con oggetti e poi anche con merci. È un oggetto distinto, non è mai soggetto di relazione, eppure chi fa un orto sa quanti soggetti ha davanti a casa nostra. Non è agente di storia, non ha soggettività. Altre culture invece pensano di parlare, di relazionarsi con altri linguaggi, con gli ambienti, proprio producendo, facendo cibo o proteggendosi dalle acque quando sono troppo forti. La natura, in quanto oggetto, stendo staccata e desocializzata, è a disposizione dell'uomo e della sua azione infinita. Beh, questa è una credenza costruita all'interno di una cosmologia che è legata alle nostre pratiche consumistiche, che è legata al nostro pensare, no? Gli ambienti in cui siamo, cioè in cui non siamo, in cui li guardiamo da fuoco, facciamo finta di esserci liberati dall'ambiente. Questa ha implicita una rimozione del fatto che il mondo è finito, che l'acqua è finita, che gli ambienti sono finiti, complessi, creativi, ma finiti. E pensa la natura soprattutto come nessuno altro la pensa, come fissità, come equilibrio, come coerenza, come continuità. Infatti la pensiamo talmente naturale la natura che gli altri devono pensare la stessa cosa della natura. E quindi anche sull'acqua, sugli albicocchi, sui tuberi di patate, la penseranno naturalmente nello stesso modo. Il problema è che è proprio l'opposto, non la pensano allo stesso modo. Ma quindi che cosa? A ciascuno la sua natura, oltre che la sua cultura, come quelle palle di biliardo di cui parlavamo prima, si fa ancora più complicato, diventa un biliardo che cozza sempre di più. O forse è la dicotomia la questione, con cui non possiamo capire perché attorno a quegli albicocchi o perché in quel deserto ci sono conflitti attorno al modo in cui si pensa l'ambiente e si gestiscono le proprie risorse. In questo caso nei confronti dei progetti che arrivano spesso in nome dello sviluppo. Cioè, e questo non lo dicono solo contadini, pastori in giro per il mondo, lo dicono anche ecologi, lo dicono biologi, lo dicono storici ambientali, che c'è una relazionalità, non ha senso una dicotomia natura-cultura. Noi non siamo fuori dall'ambiente e soprattutto, che ha molto senso e molto significato e complessità, la relazione con quell'altra diversità, certo non culturale, però tanto culturale che sono le altre modalità di pensare i propri ambienti e di viverci. Allora facciamo un viaggio ancora più lontano dal nostro naturalismo, dal nostro, ecco, da questo pensiero unico di una natura con sopra tante culture. Andiamo in oltre Popavese, è un contesto molto esotico della Lombardia, molto lontano, ancora più lontano di Bali, è al cuore del capitalismo agricolo della Padania, ma dove quando nel sistema tradizionale si pota la vita, che è il lavoro più importante per fare un buon vino che voi bevete, o che è interessato, ma sono croatine, bonarda, quello che vi arriva sulle tavole, si parla della vita, ma non periodicamente al bar. Quando si lavora per capirsi, per orientare i sistemi complessi del lavoro più complesso che ci sia, si parla della vita che piange, per orientare certi lavori, per farli, non farli, per evitare certe cose. Agli occhi le gemme, ma perché lì bisogna chiamarli occhi e non gemme, ma perché ha molto più senso per il lavoro e per la sostenibilità di quel lavoro di piccoli contadini nel secolo scorso, di farlo. La vita è debole, è forte, guarda la luna, guarda la luna, perché certe cose si fanno con certe lune e quindi è la vita che la guarda, non è solo l'uomo che la guarda, per orientare. Insomma, a quanto pare c'è un'altra, si ha, sono consapevoli, è un loro pratico di avere relazioni sociali con quell'altra diversità, che noi non stiamo inglobando nella nostra diversità multiculturale e interculturale. Ma, e loro sono ben consapevoli, che hanno una relazione sociale di diverso tipo rispetto ai propri sistemi familiari, ma con quell'ambiente, perché sono obbligati, sono stati obbligati ad averlo. E chiaramente sono anche i sistemi che stanno scomparendo con l'intensificazione, con l'industrializzazione dell'agricoltura. Allora, andiamo a concludere. Muoversi verso in questo caso, se stiamo dicendo abbiamo certi modelli di cultura, alcuni sono rischiosi nel pensare, in un contesto per esempio di cambiamento come lo sviluppo, le relazioni tra contesti culturali, è che lì incontriamo anche altre idee di natura, quotidianamente, nel progetto. E non si tratta di confonderci con la natura, si tratta di uscire da una piccola dicotomia, di partire da un'idea relazionale con l'ambiente, che vuol dire interdipendenza. Le parole che ha usato Natoli stamattina, interdipendenza, siamo intessuti di quelle altre diversità, anche degli ambienti, anche di quei soggetti, anche se non sono umani, per imparare qualcosa da altri contesti culturali, da altre diversità culturali, da altre popolazioni. Rimettere le relazioni di intercultura e diversità culturale anche nell'ambiente. E questo non è facile anche per gli antropologi. Anche a casa di antropologia l'ambiente rimane, c'è quella credenza che l'ambiente lo fa e te ne occupi se sei ambientalista o, e non è così, ma non ci si rende conto come la cultura sia sempre imbricata in ambienti. È chiaro che la relazione non è determinante, la cultura non è così come si credeva un secolo fa perché quell'ambiente è così. C'è una rimozione collettiva, tralasciamo questa grande alterità culturale che è anche quella degli ambienti. Questo è un fumetto, una conferenza del clima in cui si torna all'ordine del giorno mentre fuori tutto vola. Ma non è questa la grande rimozione, che è tema oggi corrente, quello dell'ambiente come qualcosa che sta cambiando e non per forza a nostro favore. E allora ci accorgiamo di finitezza, di problemi di sostenibilità, di problemi dei nostri consumi rispetto alla realtà che abbiamo di fronte. Ma il solito ordine del giorno è quello di pensare a quella natura come qualcosa assolutamente estraneo agli studi della società e della cultura, per esempio. Ma è estraneo anche al nostro essere su questo mondo. Non è necessario essere dei grandi esperti, dice sempre Descolà, per predire che la questione del rapporto degli umani con la natura sarà assolutamente cruciale in questo secolo. Lo dice qualcuno che si è occupato di culture, un po' come dire, ha preso il posto di Levi-Strauss a Parigi. Basta guardarci attorno per rendercene conto, gli sconvolgimenti climatici, l'erosione della biodiversità, la moltiplicazione degli organismi transgenici, l'esaurimento, insomma fa una lista. E la lista può essere solo pesante, ma per dirci che è questione che interpella non solo la cultura nostra, le culture, qui, adesso, in questo momento. E certo possiamo, no? Divinità varie, compresa la nostra, può respingere ogni coinvolgimento riguardo alle nostre prove di diluvio universale. Forse possiamo non respingere le nostre prove di astrarre, di pensare di emanciparci da un ambiente a cui siamo non dipendenti per forza, ma interrelati. E che non è semplicemente un sostrato a disposizione, ma è un contesto complesso con cui siamo comunque in interazione. E' il discorso che tante altre culture lo sanno, lo mostrano, lo perdono, come confronto con l'alterità culturale. E' giusto un ultimo spunto, è un muoversi verso mio. E' curioso come molto spesso pensiamo gli altri, pensate degli altri dell'Amazzonia, gli altri africani, a partire già dal mito del buon selvaggio, no? Di Rousseau e avanti. C'è una riproduzione di questo mito come coloro che sono più vicini alla natura, in qualche modo. La cui cultura ha corrotto di meno con la specie di armonia universale. Non è di quello di cui abbiamo parlato. La cosa curiosa che è curioso di me, forse come papà, ma anche come... che mi interpella in altri contesti culturali nelle relazioni coi bambini, è pensare che noi insegniamo, proiettiamo, raccontiamo ai bambini, e quanto importante è questo, no? Pensare anche alla pedagogia, come a parlare con l'ambiente, no? Dal topolino alle favole, ai film, a un'idea di ambiente con cui parlare, che è soggetto, che è soggettivo, che è un'interazione con l'ambiente, per poi tutto un tratto raccontargli qualcosa in termini proprio di, ecco, antropologici, di molto diverso. Che quell'ambiente invece è un oggetto, anzi può essere una merce, anzi possiamo astrarcene, anzi non c'è più bisogno di parlarne. E la cosa curiosa però è che, in altro modo, antropologi, filosofi della scienza, storici ambientali, geografi, e via dicendo, in realtà continuano e rivendicano oggi di dire, beh, parlando di diversità culturali, ecologi politici, dobbiamo renderci conto quanto, no? dobbiamo pensare il modo in cui la cultura in relazione alla natura, come coproduzione, come elemento relazionale, nello studiare. Quindi non è solo ciò che proiettiamo ai nostri bambini, che dovrebbero essere più vicini alla natura, ma è ciò che stiamo cercando di immettere per imparare qualcosa, sì, da altre culture e da altre storie ambientali, che sono anche a casa nostra, come ho cercato di mostrarvi con l'esempio della vita che piange. Grazie. Grazie. Grazie.